La letteratura ha esatto fino ad oggi, l'immaginità melosa, è stata in grado di solito, noi vogliamo saldare il corrento agressivo, la letteratura ha esatto fino ad oggi, l'immaginità melosa, è stata in grado di solito, noi vogliamo saldare il corrento agli abitudini all'energia, la valuta e la verità, il coraggio, l'autaggio, l'arrivo e l'osso, saranno elementi essenziali della nostra poesia. La letteratura ha esatto fino ad oggi, l'immaginità melosa, l'estasi e il sonno, noi vogliamo saldare il movimento aggressivo, il sogno e la feboria, il passo di corsa, saranno voltare, lo schiaffio ed il pugno. La letteratura ha esatto mai Fantastico La letteratura ha esatto fino ad oggi, l'immaginità melosa, li Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.